E' bello a tutti quanti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei rotti e incominciamo subito Dai invece farlo, prova a farlo, si mi trovo tutto, allora faccio io, pronto? Bibi 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 Super Aspico E Bibi 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 Ti prego, non tirami un altro giusto. Ti prego, non tirami un altro giusto, ti prego. Che potenza. E bello a tutti quanti ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. E bello!